Soffici e dolci bocconcini di pane perfetti da farcire con prosciutto e formaggio, cioccolato, marmellata Oggi prepariamo insieme i panini al latte Mi sta venendo una fame Cominciando a versare le farine in ciotola 00 e Manitoba Aggiungiamo il lievito di birra fresco e lo zucchero Versiamo il latte a temperatura ambiente Con l'aiuto di un tarocco, cominciamo a impastare Aggiungiamo il burro fuso, tornato a temperatura ambiente Aggiungiamo il sale e poi trasferiamo sul piano da lavoro Lo lavoriamo fino a che il composto non sarà liscio ed elastico Se dovesse appiccicarsi troppo al piano da lavoro Basterà lasciarlo riposare per un paio di minuti coperto Il mio impasto è bello liscio Ora forma una palla Ungo leggermente del burro ammorbidito il fondo di una ciotola Trasferisco dentro l'impasto Lo copro con pellicola E lo lascio lievitare in forno spento con la luce accesa Per almeno due ore Ecco l'impasto lievitato Via la pellicola Come vedi ha raddoppiato il suo volume Ora dritto in spianatoia Formo un bel filoncione Lo divido in due Copro l'impasto con canovaccio Così non si seccherà E ricavi i miei panini Che dovranno pesare circa 30 grammi l'uno Poi diamo una forma E poi ci sono un po' di modi per chiudere Prendendo tutti gli angoli e portandoli al centro E poi con il palmo della mano Pirlare la nostra pallottola Una breve pinzatina sul fondo Ed eccolo qua Lo appoggio su una leccarda dotata di carta forno Andiamo avanti Ora un altro modo per chiudere le palline Ancora più semplice E portare tutti i lati al centro Fino a che si formerà la solita sfera Che vado comunque a pinzare Spennellare con un uovo stemperato con un po' di latte Spennellare con un uovo stemperato con un po' di latte Dopodiché Lasciarli lievitare per altri 30 minuti Ecco i miei panini Sono pronti per infornarli in modalità statica a 200 gradi Per 12-13 minuti Una volta cotti e ben dorati in superficie Li trasferirò su una gratella Per farli raffreddare completamente Guarda che carini i miei panini Qui sotto ti lascio il link alla foto ricetta su giallo zafferano Dove troverai ingredienti, dosi e procedimento passo passo Se ti è piaciuto questo video Metti un bel mi piace E se hai qualche domanda Scrivila nei commenti Ah, se ancora non l'hai fatto Iscriviti al canale Panini al latte Ciao youtuber